Si apprestano ad iniziare i lavori di Marche Multiservizi per la realizzazione di una nuova rete idrica e del gas nel quartiere di Soria, per risolvere il problema delle frequenti rotture che interessano la zona e potenziare le condotte di quest'ultima. Sono varie le vie del quartiere interessate dai lavori che dovrebbero trovare conclusione entro il giugno del 2025. Abbiamo comunicato con grande soddisfazione come è immaginabile questo finanziamento che l'azienda insieme a Lato è riuscita a tenere di fondi PNRR, parliamo di 20 milioni di contributo per quasi 30 milioni di progetto, però dopo la fase di annunci poi bisogna mettere a terra, come si dice anzi, in questo caso mi permetto una battuta sottoterra perché parliamo della rete idrica e in questo caso particolare in alcune aree anche della rete del gas, per cui dalla fase di euforia si parte a quella del lavoro vero e proprio e di conseguenza oggi abbiamo inteso dare un'informativa ai cittadini perché crediamo che sia molto importante l'intervento che andremo a realizzare, che però prevede comunque una serie di disagi che si creeranno, che cercheremo però di minimizzare e oggi la riunione aveva proprio questo obiettivo, spiegare quello che andremo a fare, cercare la massima collaborazione da parte delle aziende, dei cittadini del quartiere per poter realizzare quest'opera strategica non solo per Pesaro ma per tutta la provincia che ci consente insomma di essere più performanti in merito alle perdite idriche. Quel tema delle perdite è un tema che è sulla bocca sempre di tutti, spesso si ne parla anche a sproposito perché si tirano in ballo delle cifre delle perdite della rete che non sono quelle reali e soprattutto non tengono conto della lunghezza della rete, Marche Multiservizi gestisce oltre 5.000 km di rete, di conseguenza Arera ci certifica come una delle società più performanti dal punto di vista della gestione della rete idrica. Agire appunto sulla riduzione delle perdite della rete è fondamentale perché l'acqua è una risorsa preziosa, l'abbiamo visto quest'estate e lo vedremo anche purtroppo ahimè nelle prossime, di conseguenza andare ad agire è fondamentale. La prossima settimana partono i cantieri di Marche Multiservizi nel quartiere di Soria e in via Ponchielli, un investimento importante per la nostra città e per tutta la provincia, sono fondi del PNRR, lavori che inizieranno a fine settembre fino a maggio, non saranno lavori continui, saranno lavori che verranno spezzettati e quindi chiediamo di pazientare al quartiere di Soria e ai residenti di via Ponchielli ma è una grande opportunità, un'opportunità storica per rifare la rete idrica e quella del gas, per servizi migliori, più efficienti e di qualità.